Coronavirus, appello di rossi a chi arriva da Lombardia e zone a rischio. Il Presidente ha chiesto di tornare a casa a chi ha preso d'assalto le località turistiche toscane di mare e di montagna. L'ospedale di Nottola ha inaugurato l'ampliamento del pronto soccorso, sopra il luogo del Presidente Enrico Rossi e dell'assessore alla salute Stefania Saccardi. Toscani Together, la Toscana guarda la nuova stagione turistica. A Firenze un convegno promosso da Regione Toscana, Anci e Toscana Promozione Turistica. Chirurgia ginecologica, nuovi ambulatori all'ospedale della Fratta, avviato il potenziamento del presidio ospedaliero di Cortona. Toscana e Lussemburgo collaborano su Finanza Sostenibile e Ricerca, una delegazione diplomatica lussemburghese ricevuta dal Presidente Enrico Rossi. Per contenere il contagio da coronavirus in Toscana, il Presidente della Regione Enrico Rossi ha chiesto di tornare a casa le tante persone che hanno preso d'assalto le località turistiche toscane di mare e di montagna che dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono arrivate dalla Lombardia e dalle 14 province chiuse fino al 3 aprile dal decreto del Governo. Da queste zone, ha ricordato Rossi, ci si può muovere solo per motivi di lavoro e di salute, non di vacanza, e chi ne proviene è obbligato all'isolamento fiduciario per effetto di un'ordinanza regionale. Ieri è stata presa d'assalto l'Elba, tutta la costa, mi dicono che anche l'Aretino, la parte collinare, è stata presa d'assalto dalle province e anche qui ancora una volta da persone che vengono dalla Lombardia, persino l'Abetone, da persone che vengono da Modena, e noi chiediamo a tutti questi di tornare a casa loro. Rossi, insieme all'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e al direttore dell'assessorato Carlo Tomassini, ha detto poi che in una ventina di ospedali toscani, accanto alle terapie intensive, saranno creati dei reparti bolla, per mettere a disposizione dai 2.000 ai 3.000 posti letto per i pazienti meno gravi. Chiunque arriverà in ospedale sarà sottoposto a tampone. Per contenere il contagio da coronavirus saranno creati anche degli alberghi sanitari per le persone che non possono stare in isolamento nelle proprie case. Il presidente della regione toscana Enrico Rossi e l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi hanno inaugurato i nuovi locali ampliati del pronto soccorso dell'ospedale di Notola in provincia di Siena. Prima di entrare, la delegazione regionale si è sottoposta ai controlli sanitari attivati per prevenire il contagio del coronavirus. I lavori hanno interessato i locali destinati ai 5 posti letto per i pazienti in codice 2, ai 4 posti letto dell'osservazione breve e intensiva e del codice rosa, investimento complessivo di circa 2.300.000 euro. Un lavoro che è stato iniziato tanti anni fa, questo ospedale fu inaugurato addirittura da me nel 2001, giovane assessore. Adesso ci torniamo per l'ampliamento del pronto soccorso. Allora si pensava che il pronto soccorso non fosse così importante come invece piano piano, grazie alle tecnologie, grazie alla capacità di fare una diagnosi certificata e rapida, piano piano è diventato. Nella seconda fase dell'ampliamento saranno ristrutturate le zone dell'attuale triage, la camera calda, lavori che vanno avanti, ha detto l'assessore Saccardi, anche in tempi in cui l'emergenza coronavirus tiene banco. I lavori sono stati fatti in più step perché il pronto soccorso continua a lavorare e deve continuare a lavorare anche nell'emergenza del coronavirus, nel modo migliore, come abbiamo visto che qui si sta facendo. Quindi insomma serve un po' più di tempo ma stiamo andando avanti in modo deciso per compiere e realizzare gli impegni che ci siamo presi. La Toscana del turismo si è incontrata a Firenze nel convegno Tuscany Together, promosso da Regione Toscana, Anci e Toscana Promozione Turistica, per fare il punto sul percorso collaborativo nato coi 28 ambiti turistici, con uno sguardo alla nuova stagione su cui grava l'emergenza coronavirus. In Toscana le disdette negli alberghi dopo l'emergenza coronavirus si attestano attorno al 60%, per questo l'assessore regionale al turismo Stefano Cioffo ha rivolto un appello al governo. Abbiamo ragionevolmente a portata di mano una via di uscita, ci vorranno misure importanti a livello regionale, nazionale e forse anche comunitario, perché è un settore assolutamente rilevante della nostra economia e il danno che ha subito il sistema della recettività turistica in Toscana è assolutamente paragonabile a quello delle regioni a maggior rischio di contagio. La mia domanda sarà una risposta del governo che pur rilevando la maggiore complessità di quelle regioni estenda le misure in maniera efficace a tutto il sistema nazionale. Il metodo Toscani Together mette insieme per la prima volta i comuni in forma associata per adottare strategie nel settore del turismo anche per far fronte a situazioni di emergenza come quella del coronavirus. I 28 ambiti, i 28 territori e le destinazioni della Toscana elaborano un loro piano di promozione, di cui noi ne teniamo conto, elaboriamo un piano di promozione unitario che sia in grado di anche reagire a momenti di emergenza come questi. Quindi è un metodo di ingaggio non solo dei territori nella parte pubblica e nella parte privata, ma anche di vendere al meglio la destinazione toscana sui mercati internazionali. Visita del presidente della regione toscana Enrico Rossi e dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ai nuovi locali destinati per l'attività chirurgica ginecologica all'ospedale della Fratta, Cortona. I nuovi ambienti saranno adibiti a esami come colposcopie, isteroscopie, laser chirurgico e prestazioni in dei hospital. Offre servizi importanti ai cittadini, ma anche servizi di alta specialità per un bacino molto più ampio. Questo è possibile perché sta dentro una rete ospedaliera, che è anche la rete di una dimensione aziendale molto vasta, in cui il ruolo del piccolo ospedale non è quello di essere un peso economico, ma una realtà che si può integrare, che può essere valorizzata. Grazie ai nuovi ambulatori, infatti, si rafforza il ruolo di riferimento dell'ospedale della Fratta, con un'integrazione tra le attività ospedaliere e territoriali. L'azienda sta investendo sul rilancio dell'ospedale della Fratta, di intesa strettissima, con la conferenza dei sindaci, i lavori al pronto soccorso, i lavori strutturali, il potenziamento dell'offerta ginecologica con l'apertura degli ambulatori e altre attività, come il potenziamento dell'attività di oculistica, rappresentano tre di tutte le azioni che l'azienda sta mettendo in campo per rilanciare questo ospedale. Una delegazione del Lussemburgo, composta dai ministri dell'economia Franz Fayot, delle finanze Pierre Gramegna, dall'ambasciatore Paul Dürre e dal console onorario a Firenze Stefano Cacciaguerra, è stata ricevuta a Firenze dal presidente della regione toscana Enrico Rossi. Al centro dell'incontro, la cooperazione tra Toscana e Lussemburgo su aerospaziale, salute, finanza sostenibile e cambiamento climatico. La comune intenzione è di utilizzare quanto più possibile i fondi verdi per promuovere la lotta a cambiamenti climatici e quella transizione ecologica di cui c'è assolutamente bisogno. Poi abbiamo anche altri aspetti di interesse che hanno a che fare con l'industria farmaceutica, con l'economia circolare, con lo sviluppo anche del settore dello spazio, che ha una presenza in Toscana anche questa consolidata e importante. Ad accomunare Toscana e Lussemburgo c'è anche, ha detto il ministro delle finanze lussemburghese Pierre Gramegna, il ricco patrimonio di foreste, la cui tutela è una priorità per il futuro. Sia la Toscana che il Lussemburgo sono due posti in Europa dove c'è tanto bosco e che è un patrimonio importante mondiale, patrimonio anche per riuscire a vincere la sfida climatica. Abbiamo anche l'ambizione magari di vedere, di fare un accordo generale tra il Lussemburgo e la Toscana per mettere in opera tutte queste iniziative che vogliamo sviluppare. Il prossimo passo sarà la firma di un memorandum per dare corpo alle possibilità di cooperazione tra Toscana e Lussemburgo emerse dall'incontro.